Fabbricati lesionati, rifiuti abbandonati, spazi comuni fattiscenti e in alcuni casi privi di illuminazione. Manuela Natale, candidata al Consiglio Comunale di Montesilvano per il Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative, denuncia le condizioni di degrado delle palazzine Ater di Via Rimini. Come Partito Democratico denunciamo in Via Rimini la mancata riqualificazione delle palazzine dove vi sono delle lesioni evidenti. C'è un degrado quasi all'inverosimile dell'emergenza sanitaria perché noi sulla Via Rimini possiamo tranquillamente vedere, verificare come ci sia una raccolta non fatta di rifiuti di nettezza urbana da parte dell'amministrazione di centrodestra. Natale punta il dito contro l'amministrazione uscente, denunciando carti alla mano che fin dal 2021 esisteva un progetto di riqualificazione mai andato in porto, sul quale la giunta De Martinis non avrebbe dunque puntato con la necessaria determinazione. Il sindaco De Martinis nella giornata di domani 28 verrà qui, proprio in Via Rimini, a determinare le proprie asserite ragioni circa la riqualificazione tramite dei nuovi progetti delle palazzine. In verità, da prove provate, l'amministrazione di centrodestra, così il sindaco De Martinis e ovviamente il consiglio di amministrazione dell'Ater avrebbero potuto riqualificare la zona sin dal 2021, anno in cui venivano deliberati e approvati dei lavori, degli interventi di riqualificazione dal punto di vista energetico e sismico delle palazzine di Via Rimini. Il sindaco fa propaganda, avrebbe potuto fare molto, sollecitare in primis l'intervento dell'Ater sin dal 2021. Nel 2022 avrebbe ancora potuto sollecitare e promuovere l'intervento dell'Ater per la riqualificazione di Via Rimini perché solo oggi, anzi solo domani, si recherà in Via Rimini con i dirigenti dell'Ater a predisporre un asserito piano di riqualificazione e progettazione della zona quando peraltro i progetti già sono stati predisposti. Bene, è ora di fare!